9 hanno un minuto da questo gruppo qua davanti nuovo controllo cronometrico 43 secondi di vantaggio per i fuggitivi nei confronti del gruppo dai pleba sono davanti sono il 9 e c'è petrucci il gruppo a un minuto è questa qua è tre chilometri e mezzo dai regolare non devi mollare questi dai 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 su dai pleba prendi lo zucchero che va bene dai prendi dai 19 secondi hai l'acqua dai dai lì è regolare che lo vedi dai 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 li troppo Grazie a tutti.